Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Riparte la casa degli imprenditori e delle piccole e medie imprese. Restart, oltre alla crisi, il Plus Italiano. Il nuovo format dedicato agli imprenditori, alle loro storie, alle loro fatiche, alle loro passioni. Per parlare di ripartenza, futuro, prospettive, rinascita, tutte parole di cui abbiamo bisogno. Vi aspettiamo il mercoledì, dalle 18.30 alle 19 e noi ci saremo per dare slancio all'imprenditoria del territorio.